Comprendere le vocazioni che ogni territorio ha, capire che bisogna stare insieme, che bisogna fare sinergia nei servizi, ma anche condividere la visione ed essere consapevoli della missione che questa nostra regione può avere. Perché se pensiamo di viverla solo e soltanto per l'oggi o massimo per domani mattina e pensiamo di ergere ogni volta un campanile per cui l'uno difende se stesso contro l'altro e non proviamo a immaginare che dobbiamo avere una lunghezza d'onda un po' più lunga e provare a stare insieme per disegnarla insieme, questa regione rischia di non farcela. Invece sta dimostrando di farcela quando traguarda risultati e mette in campo cultura, un modo di agire, un approccio di pensiero molto più ampio, molto più aperto. Intraprendere un ragionamento con le massime autorità nazionali che hanno tradotto in questi anni in finanziamenti concreti visioni di respiro territoriale. Quando si parla di aree interne si parla di una partita strategica per la Basilicata e sicuramente di una grande opportunità collegata ai passi già compiuti che l'hanno trasformata da Cenerentola d'Italia a vettore nell'area del Mediterraneo e in generale in Europa. E' quanto emerso ad Aliano nel corso del Forum Aree Interne 2017, la due giorni che ha visto la presenza di professionisti impegnati sulla SNAI, la Strategia Nazionale Aree Interne. Aliano fa parte di una delle quattro aree interne della Basilicata a cui saranno destinati interventi per circa 117 milioni di euro. Introducendo i lavori, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ha evidenziato come le aree interne resilienti di cui Aliano e Simbolo possono diventare punto di riferimento culturale, costruendo e rafforzando reti immateriali. E' importante che il Comune di Aliano abbia investito moltissimo sulla valorizzazione culturale di questo borgo straordinario, che con la strategia delle aree interne vogliamo mettere a sistema con gli altri borghi perché qui abbia senso per chi ci vive fare un proprio piano di vita qui, lavoro, servizi, la possibilità di vivere qui come si vive anche nelle grandi città, naturalmente con la bellezza e la particolarità di questi borghi che sono assolutamente peculiari. Stiamo facendo un grande sviluppo, un grande investimento sulla banda ultralarga. Abbiamo avviato il piano banda ultralarga. Nelle zone come queste, in cui gli operatori non vengono spontaneamente, abbiamo varato i bandi, due bandi per la posa della banda ultralarga facendo una rete pubblica. Quindi qui ci sarà una rete pubblica in fibra per la popolazione che consentirà la completa connessione ad alta velocità con la rete di comunicazione più generale. La Basilicata rappresenta un esempio importante di quello che il mezzogiorno può dare perché è una terra con delle potenzialità sia economico-produttive, dall'industria all'agricoltura ai servizi, sia culturali, paesaggistiche, quindi anche per esempio per il turismo, straordinarie. Quindi la Basilicata è un esempio del mezzogiorno che ce la fa. La Basilicata è una regione che ambisce a ricoprire un ruolo importante nel Mediterraneo, coniugando locale e globale e favorendo la coesione dei territori attraverso il raggiungimento di un unico obiettivo, il tutto lavorando con tempi diversi per colmare due importanti gap, quello infrastrutturale e quello digitale. Proviamo a dire che il gap infrastrutturale negli anni va colmato, non lo fai in un giorno o in un mese. Oggi hai finanziamenti, devi programmarli e probabilmente da qui a X anni tu lo avrai colmato. Secondo, le autostrade digitali le stiamo mettendo in campo. Scuola, formazione, agroalimentare, marketing culturale e territoriale, perché la cultura e tutti questi tesori la fanno grande questa regione. Ora, questo aspetto ci collega, o meglio, configura una regione virtuosa e prova a metterla in relazione con le altre aree interne e con le regioni limitrofe. Più in generale. Io faccio una domanda, ma la Basilicata nel mezzogiorno d'Italia, che è la più virtuosa, può rappresentare un ponte verso il Mediterraneo? L'Asia, l'Africa, può essere per l'Europa un valore aggiunto se noi riteniamo che lo sia. Nella visione nazionale ed europea vuol dire che non esiste una questione tra nord e sud, esiste una questione, una opportunità che il mezzogiorno offre per essere terra logistica, culturale, di incroci e di scambi culturali, oltre che commerciali, verso il Mediterraneo e dunque è lì che troviamo il valore aggiunto.